un posto al sole 9-13 novembre 2020 anticipazioni e trame un posto al sole episodio 5561 lunedì 9 novembre 2020 serena decide di raggiungere filippo a tenerife intanto cresce in leonardo il risentimento nei confronti della ragazza marina indaga sul vero legame tra lara e ferri mentre bianca è sempre più irritata dalla presenza di rene in casa un posto al sole episodio 5562 martedì 10 novembre 2020 più tardi è tutto pronto per la partenza di serena e rene quando un improvviso inconveniente minaccia di mandare tutto all'aria si presenta per giulia una triste occasione di verificare ancora una volta quanto sia forte il pregiudizio nei confronti di alcune minoranze nel frattempo clara prossima ormai a dare un figlio ad alberto affronta il primo giorno di lavoro presso l'agenzia di barbara filangeri un posto al sole episodio 5563 mercoledì 11 novembre 2020 clara continua a dimostrare tutto il proprio amore ad alberto ma l'uomo è convinto adesso di poter iniziare la vita che ha sempre sognato più tardi serena apre finalmente gli occhi su leonardo e grazie all'aiuto delle amiche affronta con successo tutti gli impedimenti che l'uomo le ha creato silvia intanto a serie difficoltà nel superare lo shock per la rapina appena subita un posto al l'episodio 5564 giovedì 12 novembre 2020 giulia si ritrova a fronteggiare una protesta molto pericolosa rossella intanto durante il tirocinio si ritrova dinnanzi a una paziente molto familiare nel frattempo nico riceve una telefonata da beatrice che per farsi perdonare gli organizza un importante colloquio allo studio leone nasce il sospetto che bice e cotugno abbiano passato la serata insieme mentre mariella si preoccupa che salvatore scopra il coinvolgimento dell'amica un posto al sole episodio 5565 venerdì 13 novembre 2020 prosegue tra michele e silvia un teso clima in comunicabilità mentre rossella affronta una giornata davvero molto difficile nico intanto appena terminato il colloquio di lavoro assume un atteggiamento distaccato da leonardo la loro amicizia sta forse iniziando a vacillare bice invece persevera nei suoi propositi vendicativi con cotugno anche se a farne le spese alla fine è mariella che a sua volta darà la colpa a guido nel frattempo scrivici con i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto grazie per la visione non dimenticare di iscriverti al nostro canale grazie a tutti